ciao a tutti sono marco chiavetta dal jgr studio vi do il benvenuto su questo nuovo tutorial della serie presonus studio one oggi tratteremo capture il software di presonus sviluppato appositamente per dispositivi mobili tipo ipad oltre le funzionalità di questo semplice programma andremo ad indagare la comunicazione che presonus ha sviluppato tra capture studio one 3 per questo tutorial abbiamo utilizzato un ipad pro 2016 interfacciato con una rme babyface la babyface è una scheda abbastanza grande rispetto alle sue ridotte dimensioni mette infatti a disposizione due canali preamplificati rme due ingressi di linea due uscite cuffie due uscite main out un in e un out midi e otto canali di in e otto canali di out in digitale con porte adatt passiamo ora ad analizzare capture la schermata principale di capture è molto semplice sotto al nome graficamente ben in rilievo grazie al suo colore bianco troviamo un elenco dei precedenti progetti da noi aperti e creati all'interno del nostro ipad che saranno ora facilmente accessibili grazie a un semplice tap sul nome del progetto in basso a sinistra invece potremmo visualizzare il nome della scheda audio che capture sta riconoscendo in questo momento come principale device audio dal lato opposto troviamo invece la sample rate noi con la babyface siamo vincolati a 4400 ma le schede audio di nuova generazione danno la possibilità di scegliere tra differenti valori anche superiori a quello che visualizzate parliamo di schede come ad esempio rme babyface pro o universal audio apollo twin vi porteremo a breve un tutorial con una di queste schede il piccolo cerchio in alto a sinistra con un più al suo interno apre una nuova sessione di registrazione noi ne abbiamo già preparata una andiamo ad aprirla ed eliminare con un doppio clic le tracce che abbiamo già registrato grazie al doppio clic si aprirà un menu dal quale potremmo scegliere varie voci tutti i canali presenti sul vostro dispositivo audio saranno elencati alla sinistra del progetto come tracce pronti per essere utilizzati in un'eventuale sessione registrazione analizzando il piano di lavoro di capture notiamo che in alto centralmente abbiamo il nostro time display il time display di capture funziona in maniera molto simile a quello di studio one 3 cliccando infatti sull'icona a sinistra dove vedete raffigurato in questo momento un orologio abbiamo la possibilità di modificare il valore di riferimento tra secondi e battute le battute in quanto unità di riferimento fanno capo al tempo metronomico che si trova nell'angolo in basso a destra facendo un tap sul tempo metronomico potrete vedere che si aprirà la nostra tastiera di ipad e i valori verranno evidenziati in maniera tale da poter essere modificati alla destra dei bpm troviamo invece i valori di tempo musicale tappando sul 4 quarti il nostro valore di riferimento di default avremo la possibilità tramite un menu a tendina di scegliere differenti tempi cliccando sopra alla suddivisione ritmica andremo ad impostare così la nostra timeline l'ultima icona in basso a destra è quella del metronomo facendo molteplici tap su questa icona possiamo selezionare differenti modalità da una normalissima riproduzione metronomica ad un eventuale countdown che anticipa la modalità di registrazione vi faccio sentire questa era la modalità con il countdown una normale riproduzione metronomica e senza metronomo come avrete già notato sul primo canale è attiva la modalità di registrazione lo si può verificare grazie alla presenza del logo di registrazione evidenziato in rosso questa opzione selezionata ci permette di vedere l'andamento audio della voce tramite il meter del canale se infatti comincio a registrare e continua a parlare potete vedere l'andamento grafico della mia voce sul canale selezionato tutto ciò però non funziona soltanto tramite gli ingressi preamplificati infatti depinnando la track voce e pinnando la traccia di linea sul canale 2 possiamo tranquillamente prendere uno strumento musicale e registrare una qualsiasi linea prendiamo ad esempio un basso elettrico per provare a registrare qualcosa wow bel suono per un ingresso di linea non credete è ovviamente possibile abbozzare dell'editing su capture infatti trascinando con il dito è possibile tornare indietro e scorrere sul progetto ma la modalità ancor più utile è quella che ci permette di utilizzare degli zoom in e degli zoom out sul nostro workflow questo è possibile pinciando le dita sullo schermo quindi utilizzando due dita e andando ad allargare e a restringere il nostro piano di lavoro ecco qui allarghiamo e restringiamo l'opzione molto utile dato che ci dà la possibilità cliccando in alto sulla time bar di selezionare un punto preciso della traccia doppio clic sulla traccia di riferimento e split al cursore tagliando la traccia dove ci interessa tagliarlo torniamo a delle dimensioni normali del progetto andiamo a mostrarvi un altro paio di opzioni che capture vi propone la prima fa riferimento al logo che stiamo evidenziando in alto a destra tramite quel logo avete la possibilità di tenere sotto controllo lo spazio di archiviazione rimasto sul vostro dispositivo estremamente utile dato che questo programma è progettato per dispositivi portatili come ipad l'ultima icona è quella che permette a capture di essere considerato un super software all'avanguardia nel campo dei dispositivi mobili ed è l'icona di condivisione che vedete evidenziata in alto a destra questa icona ci dà la possibilità di trasmettere il nostro progetto direttamente a studio one senza dover prima esportare o comunque inviare file in maniera tradizionale le uniche due condizioni fondamentali affinché possa avvenire questa comunicazione rapida e che i vostri due dispositivi siano connessi alla stessa rete e che studio one sia aperto sul computer adibito alla ricezione cliccando sull'icona di condivisione si aprirà una finestra in basso vedremo il nostro computer con il suo relativo indirizzo ip bisognerà cliccare su quella parte dell'icona per comunicare con il nostro computer e non sulla parte superiore questa finestra caricherà il progetto che ritroveremo identico nelle sue nel suo aspetto su studio one 3 comprensivo di tutte le tracce aperte ma non registrate in questo modo avremo la possibilità di allargare i nostri arrangiamenti editare le tracce registrate mixarle ed utilizzare oltre a un ascolto migliore in studio anche dei dispositivi che magari non sono disponibili quando siamo in modalità mobile le applicazioni con questo software sono infinite dall'utilizzo in campo del sound design fino alle registrazioni live o alla collaborazione con diversi musicisti in diversi ambienti se vi piacciono i nostri tutorial vi invitiamo a cliccare mi piace sulla nostra pagina a condividere i nostri video qualsiasi dubbio qualsiasi domanda qualsiasi richiesta per nuovi tutorial saranno presi in considerazione lasciateci queste richieste domande sotto ai commenti o mandateci un messaggio direttamente dalla pagina grazie mille da marco diretta e dal ggr studio